Il mondo del sabato notte, il mondo del convento, è lieto di ospitare questo gruppo di ragazzi che festeggia l'Arteo Celemano, lui, il pescatore, il pescatore più in verde che si chiama? Luca! Facciamo un applauso a Luca. Luca! Luca, vicino al microfono, con chi ti sposi? Con Fabiola. Subito per te, da dove vieni? Da Faenza, in provincia di Ravenna. Da Ravenna, Luca si sposi con Fabiola, dimmi un pregio e un difetto di Fabiola. Un pregio? Il pregio è anche che mi sopporta. Difetto? Il difetto, non si può dire quello che ha detto lui, però come tutte le donne. Rompe le scatole. Rompe le scatole. Luca, conosciamoti ancora un po' meglio, il nostro sposo di Ravenna. Cosa fai di bello nella vita? Sono impiegato in un'azienda elettronica. Ok, passioni. Nel tempo libero cosa ti piace fare? Sì, sciare e pugnetti. Ti piace sciare? Adesso lo segniamo? Ti piace sciare ma non in montagna. Ma non in montagna. Allora, Luca, che cantone cantiamo? Gianna. Vai con Gianna. Eeeh! Gianna. E' il vino Gaetano. E' il vino Gaetano. E' il vino Gaetano. Gianna sosteneva. No. E' il vino Gaetano. E' il vino Gaetano. Già non perderebbe un minuto per fare l'amore Ma la notte la festa è finita e viva la vita La gente si sveglia e comincia un mondo Un mondo diverso ma fatto di senso Chi vivrà vedrà Gianna 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 non voleva più il bagnone Gianna Gianna perdeva il suo salario dall'inflazione Gianna 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 non credeva al calzoglio ufo Gianna 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 aveva un fiuto eccezionale per il tartufo Gianna 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 Ma la notte la festa è finita e viva la figa La gente si sveste e comincia un mondo Un mondo diverso ma fatto di senso Chi vivrà vedrà Fatti sempre, fatti tuoi, di chi sei, ma che vuoi, il dottore non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, tu non prendi se non stai, vieni qua, ma che fai, dove vai con chi ce l'hai, ma chi sei, ma che vuoi, dove vai con chi ce l'hai, guarda là, vieni qua, chi la prende e chi la dà, dove sei, dove stai, fatti sempre, fatti tuoi, di chi sei, Ma che vuoi, il dottore non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, prendi se non stai, vieni qua, ma che fai, dove vai con chi ce l'hai, e chi sei, ma che vuoi, dove vai con chi ce l'hai, buttala, vieni qua, chi la prende e chi la dà, dove sei, dove stai, fatti sempre, fatti tuoi. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori.